Un saluto dal Tg della mobilità per Ferragosto sarà osservato l'orario festivo per la rete capitolina di trasporto pubblico, orario del venerdì e del sabato per le metropolitane con le ultime corse dai capolinea all'1.30. Da ricordare sulla metro C, la sera ci sono i bus al posto dei treni per i lavori di prolungamento della linea sino al Colosseo. Sia sabato 15 che domenica 16 agosto pedonalizzazione festiva per via dei fori imperiali, deviazione per l'intera giornata per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica si sposta la NMB. E' tutto appuntamento alla prossima edizione.